Carlo Acutis è beato. La proclamazione è avvenuta sabato 10 ottobre durante una cerimonia molto suggestiva nella Basilica Superiore di San Francesco presieduta dal Cardinale Agostino Vallini legato pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli. I fedeli hanno potuto assistere alla celebrazione nella Basilica ma anche nelle aree allestite con i maxi schermi nella piazza della Basilica Inferiore, sul prato di quella superiore, al Santuario della Spogliazione nella piazza di San Pietro e in quella di Santa Maria degli Angeli. Durante il rito della beatificazione dopo la petizione del Vescovo Domenico è seguita la lettura da parte del Cardinale Vallini della lettera apostolica con la quale il sommo pontefice ha iscritto nel numero dei beati il venerabile servo di Dio Carlo Acutis. È stato poi scoperto il drappo con l'immagine del beato. Un momento molto suggestivo si è avuto con la preziosa reliquia del cuore che è stata portata processionalmente dai genitori di Carlo per poi essere collocata accanto all'altare. Il Vescovo Domenico ha espresso la gioia della chiesa locale e di quella universale per la grazia ricevuta con la beatificazione di Carlo che è sepolto al Santuario della Spogliazione dove il corpo rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli fino al 17 ottobre. Grazie.